Un piccolo Central Park fanese. Piacere definirlo così all'amministrazione comunale il nuovo parco urbano nella zona dell'ex aeroporto di Fano. Oggi, in una conferenza stampa sul posto, è partito il cantiere per la realizzazione del primo dei tre stralci. Dopo la bonifica dagli ordigni bellici dei mesi scorsi, verrà realizzata, a partire dalle prossime settimane, una vera e propria area attrezzata per bambini e altri interventi. Una grandissima area attrezzata, sono circa 400 metri quadri di area attrezzata, con una pavimentazione antitrauma, completamente posata in opera. Verrà distribuita l'acqua, verrà creato e illuminato un percorso che servirà da inizio di questo percorso più grande che abbiamo progettato per tutta questa area, quella del parco. Sicuramente inizieremo anche a piantare degli alberi d'alto fusto, che quindi subito avranno un effetto, diciamo, dal punto di vista ombreggiante, eccetera. Verranno appunto segnati questi percorsi che ricalcheranno anche i vecchi percorsi delle strade, forse anche di epoca romana, che appunto qui passavano prima della costruzione dell'aeroporto. Un importo complessivo per questa prima fase di 176 mila euro, con la conclusione dei lavori per fine maggio di quest'anno. Un intervento da 176 mila euro a cui si aggiungerà nel prossimo bienio un altro da 400 mila euro. È un impegno che l'amministrazione comunale aveva preso cinque anni fa, dopo l'acquisizione a titolo gratuita dell'intera area dell'escampo d'aviazione. E oggi finalmente, dopo il concorso di idea e gli interventi di progettazione, i lavori partono. 60 giorni di cantiere per garantire alla città di Fano di avere la prima parte, circa un ettaro e mezzo, di parco attrezzato da qui all'inizio dell'estate. Un altro impegno mantenuto dall'amministrazione, esclama il sindaco Seri, è una bella notizia per i più piccoli. Finalmente un luogo dedicato tutto a loro. Sì, una risposta importante, non nascondo la soddisfazione perché ricordo cinque anni fa, prima di diventare sindaco, ho preso pubblicamente un impegno lasciando anche una lettera scritta, tracciando quello che sarebbe stato il percorso per un nuovo parco e a cinque anni di distanza, posso dire, tutto quello che avevamo scritto è stato mantenuto. Quindi siamo partiti veramente e possiamo dire che da quest'anno non ci sarà più la festa per il parco, ma ci sarà la festa del parco. Con questo primo stralcio, il prossimo 2 giugno, il parco sarà intitolato a Lucio Polverari.